Prima di tutto la ringrazio per l'intervista e cominciamo parlando di guerra in Ucraina. Lei pensa che l'Unione Europea stia facendo abbastanza per contrastare l'invasione della Russia in Ucraina? Mi riferisco in particolare agli aiuti militari, finanziari e umanitari? Guardi, secondo me l'Unione Europea non sta facendo abbastanza per cercare di indirizzare questo conflitto a una soluzione, per cercare di individuare una via d'uscita da questo conflitto. Robert Schumann, un padre fondatore della Casa Comune Europea, diceva che la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non apprezzo di sforzi creativi. Ecco, io non vedo sforzi creativi, non vedo coraggio in questa fase storica da parte dell'Unione. Vedo un'Unione Europea che non riesce a tirar fuori una posizione comune a costruire un percorso che sia in qualche modo alternativo rispetto all'unica strada che adesso stiamo attraversando e percorrendo, che è quella di un escalation militare. E quindi lei per sforzi creativi cosa intende esattamente? Per esempio parlava di Schumann, il padre fondatore dell'Unione Europea che era a favore per esempio di una politica estera unica a livello europeo. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle a riguardo? Guardi, io credo che dopo questi passaggi che abbiamo fatto, questi mattoni che abbiamo costruito, non possiamo fermarci. Dobbiamo andare avanti ad esempio sul piano di una difesa comune europea. Ovviamente una difesa comune europea non può che essere collegata a una politica estera europea. Da questo punto di vista l'Europa se vuole una leadership, se vuole rivendicare una leadership deve percorrere a grandi passi queste nuove traiettorie. Ma soprattutto a partire adesso da questo conflitto, io veramente raccomando, se l'Unione Europea non reciterà un ruolo, non riuscirà a far sentire una sua voce in questa prospettiva così critica a livello internazionale, se anche immagini dovessimo arrivare a un negoziato di pace, dove però l'Unione Europea di fronte a una guerra qui nel cuore dell'Europa non reciterà nessuna parte da protagonista, questo significherà perdita di credibilità politica, perdita di leadership da parte dell'Unione Europea. Ma quindi lei stava parlando di escalation militare, qual è secondo lei invece una de-escalation militare? Cioè che cosa i leader europei devono fare? Guardi, c'è stato a Rammstein adesso un incontro, mi sembra che sia un incontro in cui le parole pace negoziato non siano risuonate. Ormai si discute, si dà per scontato che ci si incontra solo per alimentare le strategie militari per programmare nuovi invii. Ovviamente noi siamo vicini all'Ucraina, sin dal primo momento abbiamo condannato fermamente anche come un Movimento 5 Stelle l'aggressione, riconosciamo che è un'aggressione quella della Russia, di Putin ingiustificata, assolutamente contraria a qualsiasi principio di diritto internazionale e abbiamo anche per questo sostenuto tutti gli aiuti, anche i militari a favore dell'Ucraina. C'era un'evidente asimmetria sul piano militare e non potevamo lasciare solo l'Ucraina. Però è passato un anno, questa strategia militare dove ci sta portando? C'è un deficit di politica. Vogliamo chiederci quale strada stiamo percorrendo? Stiamo abbracciando il rischio di una deflagrazione nucleare? Stiamo abbracciando il rischio di una guerra che possa continuare negli anni? Allora l'interrogativo che pongo all'Unione Europea, alle nostre democrazie, con le nostre opinioni pubbliche, le nostre opinioni pubbliche sono molto esigenti e siamo sicuri che questa strada riusciremo a reggerla? O arriveremo come in Afghanistan in cui di un botto poi ci renderemo conto che i costi economici, i costi sociali sono assolutamente insopportabili e abbandoneremo l'Ucraina a se stessa. Ecco allora, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo avere una visione politica e costruire un percorso negoziato di pace. È faticoso? Certo, la pace costa, l'ha costruita con grandi sforzi continui, assolutamente costanti, ma è quella la direzione che dobbiamo imboccare. Parliamo invece adesso di recovery plan, a Roma si parla di nuovo recovery, mentre invece a Bruxelles si parla di modifiche previste dal regolamento del PNRR a causa dell'inflazione. Io vorrei sapere da lei, lei è stato un protagonista del recovery plan perché il piano è stato approvato durante il suo governo, che cambiamenti ha visto col governo Draghi e col governo Meloni rispetto all'implementazione del recovery plan e ovviamente che cosa ne pensa il dibattito attuale appunto gestivo dalla Meloni? Innanzitutto io ho sempre detto all'indomani quando abbiamo ottenuto questo importante risultato, guardi non solo per l'Italia, ma per l'Unione Europea intera, è stata una svolta incredibile, è stato un mutamento di paradigma. La Casa Europea ha compiuto un deciso passo in avanti con quel Next Generation EU, io ho detto subito alla mia intera comunità, a tutti i cittadini italiani adesso dobbiamo meritarci questo risultato, non dovremo sprecare un solo Euro, perché ne va della credibilità dell'Italia e dell'investimento di fiducia che l'Unione Europea ha fatto sull'Italia e sugli altri paesi maggiormente in difficoltà. È chiaro che abbiamo una difficoltà, i tempi sono contratti, obiettivamente, entro il 2026 spendere quelle risorse importanti non è facile e non è facile per un paese come l'Italia che anche in ragione di politiche dell'austerità, peraltro assolutamente condivise e imposte a livello europeo, non è mai cresciuto, è stato sempre il farineo di coda per quanto riguarda il PIL, la capacità di investire, di spendere fruttuosamente anche tutti i fondi europei. Quindi adesso ci sono delle situazioni che richiedono un nuovo investimento di fiducia, l'Italia non è quella messa peggio, però è chiaro che siamo in una nuova emergenza, l'inflazione, il caro energia, il caro bolletto riguarda tutta l'economia, il mercato comune europeo. Ancora una volta quindi l'Europa deve cercare intelligentemente di rilanciare la propria economia nel segno dello sviluppo sociale e lo deve fare con grande visione, forza e determinazione. Abbiamo peraltro uno stimolo urgente che ci è dato anche dall'iniziativa degli Stati Uniti, l'Inflation Reduction Act sicuramente rischia in prospettiva di rendere sempre meno competitive le imprese europee. Dobbiamo rispondere con un nuovo strumento di finanziamento basato sul debito comune che possa rilanciare la competitività delle imprese europee. Passando al tema energia, il governo Meloni ha appena lanciato il cosiddetto piano Mattei con un incontro che ha avuto in Algeria, anche Tajani è stato in Egitto, quindi c'è un'intenzione di narrare una nuova politica estera dell'Italia. Lei pensa che ci sia una continuità rispetto al suo governo, al governo Draghi e al governo Meloni rispetto all'approccio verso il Nord Africa oppure siamo veramente di fronte a una nuova politica estera italiana? Guardi, francamente non mi sembra che ci siano i segni di una svolta nella politica estera italiana. Il tutto mi sembra in linea di continuità con attenzione a quei paesi soprattutto della fascia nordafricana con cui abbiamo dei rapporti consolidati storici. Con l'Algeria noi abbiamo già in essere dei contratti avviati proprio nel momento di maggiore difficoltà quando avevamo bisogno di una diversificazione e di un diverso approvvigionamento energetico. Quindi mi sembra che questo passaggio in Algeria della Presidente Meloni sia nel segno del consolidamento di questi trattati, di questi accordi. Per quanto riguarda poi il rapporto sul fronte della cooperazione e lo sviluppo, tenga conto che io avevo già promosso un nuovo modello di cooperazione, un partenariato tra uguali, dismettendo completamente le visioni del passato rispetto a quelli che erano i rapporti con i paesi africani in particolare. Poi oggi c'è questo slogan, Piano Mattei, ma questo Piano Mattei mi sembra al momento privo di contenuti perché, ripeto, non c'è nulla di nuovo, anzi devo dire che con costernazione ho dovuto prendere atto che c'è stato anche un decremento per quanto riguarda il capitolo degli investimenti del Ministero degli Esti per la cooperazione e lo sviluppo, in particolare con l'Africa. Ecco allora bisogna, come dire, riempire di contenuti queste prospettive di questi nuovi modelli di cooperazione e di sviluppo. Al momento il Piano Mattei rimane uno slogan e peraltro anche la prospettiva di fare dell'Italia un hub energetico, una prospettiva che non solo richiede grandi investimenti, ma richiede anche del tempo, è una prospettiva di medio e lungo termine, tenga conto che noi non abbiamo infrastrutture adeguate per poter poi trasmettere e trasportare il gas nel resto dell'Europa. Ma secondo lei è un investimento sensato quello di far diventare l'Italia un hub per l'energia oppure ci sono dei rischi? Guardi, io dico la verità, il Movimento 5 Stelle ritiene che sia assolutamente prioritario investire sulle rinnovabili, perché anche il mercato del gas che adesso è diventato anche nell'opinione pubblica la questione più urgente da tenere sotto controllo, è un mercato che ci dicono già gli esperti potrà assestarsi dopo il 2030, dal 2030 al 2050 dovrebbe stabilizzarsi, noi invece dobbiamo puntare sulle rinnovabili, è lì la vera svolta che possiamo conseguire per realizzare un'Italia ma un'Europa nel segno della transizione ecologica. Rimanendo nel mondo arabo, qui a Bruxelles c'è appena stato uno scandalo di corruzione molto importante, il Qatar Gate ne ha sicuramente sentito parlare. Il Partito Popolare qua a Bruxelles ha accusato più volte i socialisti di essere loro il problema all'interno dell'istituzione, che il Qatar Gate è uno scandalo dei socialisti anziché dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle a riguardo? Il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i temi della legalità, del contrasto alla corruzione, a tutte le forme di infiltrazione della malavita organizzata è in prima fila, è nel DNA del Movimento 5 Stelle coltivare efficaci politiche di contrasto. Le dico solo un dato, con il mio governo si dà il conte 1 abbiamo introdotto in Italia una legge contro la corruzione, che è uno dei testi normativi più efficaci per quanto riguarda anche gli standard internazionali per il contrasto alla corruzione. Adesso anzi la preoccupazione, e c'è una forte discussione con questo governo, è che questa soglia di attenzione, di contrasto non solo della mafia, ma anche della corruzione possa abbassarsi. In Europa questo è uno scandalo veramente che rischia di creare una disaffezione da parte del demos europeo nei confronti alle istituzioni europee, euro-unitarie, non ce lo possiamo permettere. Quindi io assolutamente ho visto che già le istituzioni europee i responsabili hanno iniziato un po' a delineare un percorso per rafforzare i presidi di legalità e per contrastare la corruzione. Io credo che sia assolutamente urgente creare un organismo indipendente che possa valutare tutti i conflitti di interesse che si possono generare e possa valutare tutte le segnalazioni che arrivano di interferenze nell'operato dell'istituzione europea da parte di potenze straniere o comunque di soggetti terzi. Poi ancora credo che sia importante approvare una direttiva che possa, come abbiamo fatto noi con la legge Severino, cosiddetta Severino su piano interno, possa regolare le incandidabilità o le decadenze degli euro parlamentari o anche dei funzionari europei dalle loro cariche elettive o che siano di carriera per quanto riguarda ad esempio sentenze passate in giudicato che riguardano reati contro la pubblica amministrazione sulla corruzione e reati gravi. Voi adesso in questo momento il Movimento 5 Stelle Europa non ha una collocazione politica all'interno di una famiglia europea. Castaldo ha più volte parlato di negoziazioni con i Verdi europei, quindi volevamo sapere a che punto sono queste negoziazioni e se avete delle intenzioni di correre per le elezioni europee con i Verdi europei. Sicuramente il gruppo dei Verdi è un gruppo che per quanto riguarda la nostra identità e visione politica è molto affine per le politiche perseguite. Quindi c'è un confronto con il gruppo dei Verdi e lo stiamo affinando. A noi interessano come sempre i programmi, la possibilità di rafforzare la nostra azione politica e ovviamente di trovare degli interlocutori in un gruppo anche che possano condividere questo nostro progetto. È un progetto che è assolutamente costruito su una transizione ecologica effettiva, è un progetto che è costruito su una politica del lavoro che siano ovviamente contrastino. Ad esempio in Italia abbiamo il problema di paghe da fame, abbiamo il problema del precariato selvaggio, abbiamo il problema della preda e potere d'acquisto dei lavoratori. Vogliamo affrontare la nuova frontiera della riduzione del tempo di lavoro, sperimentata in altri paesi, mentre in Italia invece i tempi del lavoro sono molto dilatati e peraltro con scarsa produttività. Vogliamo assolutamente condividere un progetto di investimento massiccio per le energie rinnovabili, vogliamo superare quella politica restrittiva, rigorista, fine a se stessa dell'austerità e sicuramente il gruppo dei Verdi è un gruppo che a noi appare un interlocutore privilegiato per perseguire queste politiche.